Le collezioni di Paolo Paoliniu Ciao a tutti! Prima di recensire la seconda serie delle patatine San Carlo Junior di Spongebob Squarepants volevo informarla che non lo so perché a settembre usciranno tantissime cose oltre alle nuove serie delle patatine della San Carlo Junior oltre che c'è Miraculous, una nuova serie Oil of Kitty che sono ripetitive queste cose come ad esempio e con una nuova collezione della Bici della Merenda non lo so se lo faccio la nuova serie della Bici della Merenda perché il muino bianco sta per uscire gli animabili ma mi piace solo uno mi piace l'anatroccolo o di gomma anche se sono tutti con la occhi chiusi e anche con i succhi di frutta di Super Mario con i Jumpies che mi piace molto la collezione oggi recensiremo la seconda serie della San Carlo Junior ufficiale delle patatine Sesa Grutini e Spongebob Squarepants non so queste patatine sono uscite inizio agosto perché so li cerco quelle patatine di Spongebob della San Carlo Junior che ormai non è più della Salati Preciosi ma dicevo ehi mamma mia oh mio dio San Carlo Junior ha fatto la seconda serie di Spongebob se c'è la Miraculous Teddy Seccatus si dicono oh mio dio c'è la sesta serie dei Miraculous ciao Spongebob sei contento che ci sono le patatine di Spongebob? si nella scorsa serie è uscita nel fine maggio 2023 inizio giugno 2024 che ho fatto la recensione anche se le connessi di Papagno va in pausa e c'erano quelle patatine San Carlo Junior le patatine stesse a glutine con Spongebob in ogni confezione in Tic Tac che questa prima raffigurava Nickelodeon il logo come sempre Spongebob Squarepants il logo come sempre Sandy Gary Spongebob Patrick e Squiddy e qua ci sono i 5 Tic Tac rivivi le divertenti avventure di Spongebob e dei suoi amici con i Tic Tac della spugna più famosa dell'oceano collezione di tutti e 5 del 2022 anche se la serie del 2023 e avevamo solo Spongebob e Patrick azzuri i logo di Spongebob Squareback che sono conservati Spongebob Gary e Patrick gialli e Spongebob Sandy Gary Patrick e Squiddy protagonisti e vicini al completo ma purtroppo manca solo Gary e Spongebob e queste sorprese sono prodotte da Studio ProSalle Morgan quest'anno la San Carlo Junior ha fatto una nuova serie di Spongebob e patatine senza glutine in ogni confessione una trottola di legno che sono delle belle sorprese o porca Spongebob Squarepants in questa raffigurato è Spongebob con il logo di Spongebob Squarepants il logo di Nickelodeon e in collaborazione con l'acquario di Genova la prima confesa di patatine non c'era in collaborazione con l'acquario di Genova adesso c'è scritto in collaborazione con l'acquario di Genova come è successo per la serie del 2021 che erano personaggi 13 con gli animali in collaborazione con l'acquario di Genova viva la natura si lo so che Spongebob compie 25 anni lo chiti compie 50 anni va bene comunque sono sempre 5 trottole e abbiamo rivivi le divertenti avventure di Spongebob e dei suoi amici giocando con le coloratissime trottole di legno collezione alle tutte del 2024 la serie è proprio giusto qua ha scritto 2022 che è del 2023 qua ha scritto 2024 in questa serie delle in questa nuova serie della seconda serie delle patatine di San Carlo Uni Spongebob abbiamo 5 trottoline come 5 tic tac abbiamo Spongebob che balla Gary e Patrick sono solo Spongebob Gary e Patrick qua Spongebob che fa il meme della settima stagione qua è non lo so se collezionerò tutte queste trottole di legno ma sono bellissime quello è quadrato questo è triangolo questo è quadrato sempre con Spongebob Patrick e Gary non lo so se collezionerò tutte perché non li ho collezionati tutte quelle di tac mancava solo questo avevo trovato doppioni di questi che li ho conservati ho trovato solo queste ok Spongebob Patrick e Gary Spongebob Gary non c'è S10S quindi in questa serie e se in forme diverse e sono trottole di legno sono belle le trottole di legno di Spongebob sembrano giocattoli del 2000 guardate va bene apriamo questa nuovissima serie delle patatine di Spongebob da San Calo Junior va bene abbiamo trovato Spongebob Patrick e Gary questa volta non è prodotto da Le Morgan è prodotto in Belgio questa serie è prodotta da Golbel Trade stavolta non da Le Morgan ma Golbel Trade va bene lo chiamo Le Morgan Studio Pro Sal questo è prodotto in Francia prima e questo l'hanno prodotto in Belgio che non è da Italia ok abbiamo trovato Spongebob Patrick e Gary uno si e le patatine al sacco di uno è buono speriamo di completare la serie oppure no perché a volte oh mio dio ci sono tante serie carine come gli animabili come gli abc della merenda e tantissime altre serie da collezionare ma questa serie vi do un voto 9,9 ma poteva moseccare con i personaggi 3D che uscivano negli ovetti all'ali degli ovetti confetti al cioccolato di Spongebob dedicato ai personaggi non sono personaggi 2D o 3D ma sono delle trottoline prodotte dal Belgio dago il Beltrade sono prodotte San Carlo gruppo alimentare va bene se volete altri video sulle patatine di Spongebob Square pensi a fare una collezione completa ma non so se ce la farò vediamo quindi ragazzi iscrivetevi al canale un po' tagliato la confessione vabbè mettete mi piace non mi piace condividete commentate e seguite la pagina facebook delle collezioni parvali new su Instagram ppnew03 e sulle altre pagine facebook tesiclone show gli universi berrybees avete capito grazie Spongebob saluta ciao vado a papasse le patatine gna 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 le collezioni di Paolo Paoli New